...dato la Liguria come piattaforma turistica e io sono toscano. Bene, il taglio del nastro è stato fatto, come avete potuto sentire sta arrivando il binario 3 e per questioni di sicurezza chiedo alla gente di dare un po' dalla linea gialla facciamo un brindisi al primo treno che commercialmente sta percorrendo il raddoppio tra Andorra e Imperia treno che alle 12.12 arriverà al binario 3